Dallo scarto di questo piatto possiamo creare un qualcosa che sia magari anche più buono del piatto originale di Sersi. Il primo ospite di No Direction Home, Mike Scott. Mi trovavo nell'interno praticamente all'altezza di Galipoli, proprio sulla vena della provincia, al centro praticamente, tra i due mari. Le persone che ne hanno più bisogno. Grazie, noi ti ringraziamo come docente, ringraziamo anche i ragazzi per aver partecipato sia alla formazione ma a questo progetto di solidarietà. Una delle sfide appunto era proprio quella di utilizzare scarti alimentari.